Più beneficiari e più tempo per presentare le domande. Novità chiedi riguardo le agevolazioni dell'Atari per i danni economici subiti durante il primo lockdown. Il termine per presentare la domanda per ottenere gli sgravi è stato posticipato di una settimana, fissato al 18 ottobre. La soglia ISEE per l'agevolazione è stata portata da 10 a 15 mila euro e ci si potrà rivolgere direttamente ai CAF. Certo, allargando ai 15 mila euro di ISEE abbiamo una fetta molto importante della popolazione che sicuramente supererà il 50%, quindi sicuramente chiediamo ai cittadini di essere vigili su questo e presentateci le istanze. Mi preme sottolineare quali sono le modalità d'accesso perché ovviamente l'amministrazione è interessata ad ottenere più istanze possibili, quindi c'è l'app Smart PA che si può scaricare da qualsiasi store, però presso i CAF e i cittadini CAF convenzionati, i cittadini possono compilare l'istanza cartacea e con tutta l'assistenza del CAF anche per quanto riguarda poi l'ottenimento della certificazione ISEE, possono accedere anche al segretariato sociale per un supporto alla compilazione delle domande, quindi diciamo cartaceo e digitale che convivono all'interno appunto dell'accesso di questo servizio. Non solo per le famiglie ma anche per le attività. Le imprese con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 27% tra il primo aprile e il 31 marzo 2020, potranno fare richiesta per gli sgravi fiscali. Per questo in totale vi è circa un milione di euro, di cui oltre la metà per le famiglie e il resto per le attività.